Salve a tutti, in questo video vediamo le migliori alternative a Google Maps. Qualcuno potrebbe non voler usare Google Maps principalmente per i problemi di privacy noti con Google e quindi magari vorrebbe cercare un altro navigatore, un altro software. Vediamo quali sono i più quotati. Sicuramente la mia alternativa preferita è anche l'alternativa preferita di tante persone che conosco e che vanno tantissimo fuori con l'auto è Waze. Waze ha un sistema basato sulla community, quindi incidenti, autovelox, fatti che avvengono in tempo reale vengono segnalati qua dentro e voi stessi potete segnalare. Quindi ottimo, soprattutto anche per chi ha a che fare con le ZTL. Waze riesce ad evitarle molto meglio di Google Maps. Quindi questa è sicuramente la prima alternativa che dovete provare. Difetto, posseduta da Google, quindi problemi di privacy, vostri dati vengono utilizzati per tanti scopi. Apple Map, che purtroppo sì, è disponibile solo per iOS e non per Android, è un'ottima alternativa. Il suo punto di forza, oltre ad avere un bel design e tutte le varie features che potete trovare su Google Maps, ha un ottimo sistema di privacy. Non eccezionale, ma sicuramente i vostri dati vengono usati molto meno. Quindi se avete iPhone, provate ad utilizzare questo, confrontatelo con Google Maps, Waze e vedete se vi trovate bene. CIGIC GPS Navigation e Maps è un'altra ottima alternativa e consiglio di averlo anche solo per il fatto che già si scarica la mappa offline di tutta Italia. Quindi se dovete arrivare alla vostra destinazione e partite da un punto in cui non c'è segnale, con CIGIC non ci sono problemi. C'è anche una versione a pagamento con cui è possibile fare più cose, ma già con la versione gratuita si fa tranquillamente tutto quello che vogliamo. Ottima la visualizzazione 3D di questo programma e mappe veramente ottime. Here we go è un'altra ottima alternativa gratuita e anche qui è possibile scaricare mappe offline. Interfaccia veramente carina e interessante e ottime funzionalità avanzate che possiede anche Google Maps, qui è possibile anche scegliere il tipo di carburante per l'ottimizzazione del percorso. E concludiamo con il Navme, ottimo perché utilizza le famose mappe della community OpenStreetMap. Appena avviamo l'applicazione ci fa scaricare infatti la mappa che ci interessa. Qua ci sono degli extra a pagamento, purtroppo gli avvisi sulle telecamere, quindi autovelox, guida vocale avanzata e la possibilità di rimuovere la pubblicità, se no abbiamo un banner per 1,99€. Poi ci sono altre cosette. Comunque si pagano una sola volta nel caso che vi piaccia veramente questo navigatore. E questa è l'interfaccia una volta che abbiamo scaricato. Come potete vedere è molto molto pulita, ecco qua, vedete? Ricerca per fare la ricerca di viaggio e qua ci sono i poi, l'area di servizio, base, lavoro come Google Maps. Qua possiamo scegliere quello che vogliamo, ovviamente qui inseriamo l'indirizzo e poi è possibile condividere in tempo reale il percorso con gli amici. E con questo è tutto, spero che abbiate trovato la vostra alternativa preferita. Ovviamente il consiglio che vi do è quello di testarne uno a uno, soprattutto su percorsi tipici che fate, per capire se fa al vostro caso oppure no. A presto!